La forma deve seguire l'emozione e non altre cose. La Kunta è nata nel periodo in cui c'era un certo entusiasmo per quella che era la ricerca spaziale. L'uomo è andato sulla Luna due anni prima, questo grandissimo razzo che si alza lentamente, potente, e si stacca dalla Terra, questo sogno che è stato coltivato nelle favole. Questa è una cosa abbastanza impressionante, anche un po' strana, che questo grandissimo sogno è stato realizzato col fuoco, cioè col dono di Prometeo all'umanità, che era nella leggenda da millenni. And the Kunta looks like something directly from outer space, with its daring design and angular and futuristic shapes. Presented at the 41st Geneva International Motor Show, the 1971 Lamborghini sports car prototype caught the world off guard changing the automotive aesthetics forever, even if not everyone immediately understood what had just begun. Per quello che mi riguarda ha cambiato un po' anche un certo modo di pensare nei confronti dell'atteggiamento verso il problema di fare del nuovo, di fare del diverso, di non ripetere degli stilemi abusati. non certamente solo in un'automobile, ma nel campo dell'arte in generale, è una necessità che chi desidera lasciare un piccolo segno è quello di dare un'impronta sua personale a quello che sta facendo, che poi venga riconosciuto o meno, quello può essere fortuna a caso, diciamo, le condizioni del momento. Being so far ahead of its time, both in terms of design and performance, the Countach's full impact wasn't immediately grasped, but soon it got the recognition it deserved, and the public realized they had been witnessing a game changer of super sports cars. La prima volta che ho avuto una reazione esterna è stata quando si erano arrivati al Salone di Ginevra una sera di marzo, mi ricordo, del 71, e c'era una folla di giornalisti che aspettava e la macchina non arrivava mai. Però avevamo l'ambizione allora di entrare in saloni e si poteva farlo con la vettura in moto. Tutti sanno che, o perlomeno dovrebbero sapere, che una macchina ha anche un modello statico che non funziona, un modello di stile che comincia a muoversi, assume una forma completamente a sé diversa da prima, cioè finché è ferma è un'immagine statica, è una fotografia. Come la macchina si muove anche lentissimamente diventa un'immagine olografica, cioè come se si vedessero contemporaneamente le parti in vista e anche quelle non visibili. perché il movimento fa sì che l'occhio e il cervello registrino delle viste leggermente diverse e ogni istante le somma enericcava un complesso di volume anche dove non si vede. È il movimento che fa questo piccolo miracolo. L'occhio di quasi tutti era abituato a delle immagini meno crude, meno brutali forse, però, diciamo, questa sensazione è durata per i primi tempi. C'è poi stato un riconoscimento, trasmato da parte di tutti, forse anche dovuto al fatto che successivamente non è successo niente di così eclatante. Oggi la Kuntac è considerata una delle caratteristiche super sportive che ha mai fatto. Incomparabile, unico e abbastanza, è stata un'immagine di generazioni di caratteristiche da sua creazione. La Kuntac ha avuto una sua funzione, anche se vogliamo, di una nuova educazione del gusto rispetto alle novità anche applicate a oggetti molto usuali come l'automobile che, insomma, nella vita di tutti e quindi trasmette delle sensazioni che influenzano comunque, anche se marginalmente, la vita. L'automobile in sé era già un sogno particolare, l'automobile ha perpetuato il suo fascino, se vogliamo, grazie al fatto di essere nello stesso tempo un tappeto volante e una casa, una cosa che non esisteva per nessun altro oggetto.